Scontri, confronti che ci hanno sempre acceso qualcosa dentro e risoluzioni. Siamo arrivati a conoscerci una parte di una crattere che probabilmente non sarebbe uscita. È stata una conoscenza, come ti ho detto, graduale e un tassello dopo l'altro. Abbiamo... siamo arrivati a conoscerci e ad avvicinarci sempre di più. Siamo cresciuti sempre di più. Sin dall'inizio io ti ho sempre detto che ti vedo l'uomo a mio fianco, maturo, un ragazzo con la testa sulle spalle. Che sa quello che vuole, sapevi allora quello che volevi, non mi hai mai fatto mancare nulla. Mi hai sempre... mi hai tolto sempre ogni dubbio riguardo al fatto che tu mi voglia portare fuori da qua e che io ti piaccio veramente. Sei sempre stato sincero, sin dal primo giorno, sei sempre stato onesto. Sin dall'inizio mi hai detto di arrivare al giorno della scelta con il 100% della convinzione. Di quello che volevo, della persona con cui volevo uscire a fare. Poi ho sempre riscontrato le belle cose, poi muo la dire. Senza avere alcun tipo di dubbio. Mi hai sempre detto di non privarmi di nulla. Io non così ho fatto, mi sono portata fino alla fine ogni tipo di emozione o sensazione, pensiero. Mi sono tolta dei dubbi, ho riflettuto. E questa direzione non è verso di te. Madonna Maria, questa direzione non è verso di te. Io ti devo chiaramente non pensare che sia banale o scontato, ma ringraziare di tutto. perché tu mi hai sempre portato molto rispetto e ho conosciuto una persona bella, una bella persona che mi porterò sempre un po' dentro il cuore. E come tu mi hai detto all'inizio, riprendo un augurio che tu mi hai fatto e io ti auguro in me. Ehm... 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 Vuoi dirtimi le cose ma non... Non mi ascono. Sì, era quello che è... Mi vedi...